Caso malasanità al Di Maria, 52 anni, morì dopo due interventi, rinvia giudizio per due medici. Un rinvia giudizio per due medici e chirurghi dell'ospedale di Maria di Avola. La vicenda resale all'agosto del 2021 quando Sebastiana Canto, una donna di 52 anni, persa la vita a seguito di complicazioni dopo due interventi chirurgici. I due medici all'epoca dei fatti prestavano servizio presso il reparto di chirurgia generale della struttura sanitaria avolese. L'agosto del 2021 la donna morì nel nostro comune volese dopo due interventi chirurgici, uno di colexistectomia e uno di emicolectomia sinistra. La signora si regolò in ospedale per forti dolori allo stomaco. Degnosticata una colexisti in un primo momento sarebbe poi stata trovata una massa. L'intervento per la rimozione si è tenuto sempre nello stesso ospedale, ma poco tempo dopo è stato tracciato un grave peggioramento delle condizioni mentre la donna era ancora ricorata. Dopo un secondo intervento d'urgenza effettuato nel giorno di ferragosto per una emorragia, la donna purtroppo morì il 17 agosto. Il marito e i due figli fin dal primo momento hanno manifestato i loro dubbi in merito all'operato dell'equip medica e per fare chiarezza sulla morte della donna deceduta ufficialmente per problemi respiratori, hanno presentato una denuncia contro i gnoti per il tramito del consulente Giorgio Franchetti in collaborazione con Infortunistica Veneta e l'avvocato Giuseppe Aprile Carbone. Pochi giorni fa al tribunale di Siracusa il giudice Carmen Scapellato, all'esito dell'udienza preliminare per i fatti di cui è causa, ha rinviato a giudizio i due medici chirurghi al momento della vicenda in servizio presso la divisione di chirurgia generale dell'ospedale Di Maria.